Nuove scoperte secondo recenti dati, la caffeina risulterebbe protettiva nei confronti di malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer e di Parkinson. Agisce infatti sia a livello della barriera ematoencefalica, sia producendo una riduzione della beta-amiloide, proteina che tende ad accumularsi a livello cerebrale nell'Alzheimer. Inoltre, è noto che la caffeina può indurre nell'uomo fenomeni di tolleranza, generando quindi la necessità di aumentarne le dosi in modo da ottenere gli stessi effetti. Può altresì generare fenomeni di dipendenza, che comunque si sono rivelati essere di tipo soprattutto psicologico, poiché al contrario di quanto avviene nelle aree del cervello che mediano l'ansia, l'attenzione e la vigilanza, così come nelle aree che controllano la funzione cardiovascolare. Non esistono differenze significative nella perfusione delle aree cerebrali coinvolte nei meccanismi del rinforzo e della gratificazione. L'alcol l'alcol è una molecola formata da una parte idrofila e da una parte lipofila, per cui si distribuisce a tutti i distretti corporei e attraversa facilmente la barriera ematoencefalica e la placenta. Il 90-95% della quantità di alcol assunta viene metabolizzata a livello epatico, la rimanente parte a livello del tratto digerente, in particolare nello stomaco, del rene, dei polmoni e dei muscoli. Alla base della dipendenza studi più recenti, condotti mediante l'applicazione di tecniche di tipo genetico, hanno chiarito che in vivo gli effetti dell'etanolo sulle caratteristiche fisiche della membrana possono essere presi in considerazione esclusivamente per spiegare gli effetti acuti della sostanza. In seguito ad assunzione cronica si verifica invece un adattamento della membrana all'azione dell'etanolo, e a questo meccanismo potrebbe essere associato lo sviluppo del fenomeno della tolleranza. Ultime evidenze Il cervello è uno tra i principali bersagli delle azioni dell'alcol. L'abuso di alcol può infatti portare ad alterazioni della struttura e delle funzioni cerebrali, e in molti casi, alla neurodegenerazione. Studi clinici e sperimentali hanno dimostrato che il cervello in fase di sviluppo è molto vulnerabile all'azione dell'alcol, e soprattutto l'uso di alcol durante la gestazione può portare a una serie di difetti fisici, comportamentali e intellettivi. Di recente si è visto che l'adolescenza rappresenta una fase importante della maturazione cerebrale, studi condotti mediante imaging in risonanza magnetica hanno infatti dimostrato che si verificano drammatici cambiamenti delle componenti sia corticali sia sottocorticali, come variazioni degli spazi corticali secondario e terziario, che non comprendono solo le cortecce temporale, parietale e prefrontale, ma anche strutture chiave sottocorticali, come il lobo temporale mediale, che include amidala, ippocampo e strutture ad alta densità di recettori steroidei. In modo particolare, dall'adolescenza alla giovane età adulta si verifica una progressiva riduzione di volume della PFC, corteccia prefrontale, che si associa a un miglioramento dei circuiti neurali e della connettività. Per esempio, si osserva una perdita di sinapsi, specialmente glutammatergiche, verso la PFC, mentre gli stimoli dopaminergici e serotoninergici aumentano in tale periodo per poi diminuire più tardi. Questi processi plastici e dinamici guidano lo sviluppo cerebrale dell'adolescente, creando la flessibilità che permette al cervello di ridefinirsi, specializzarsi, e formare le proprie funzioni in risposta a specifiche domande. Forti evidenze hanno mostrato che il cervello in sviluppo è molto vulnerabile agli effetti dannosi dell'etanolo. È possibile affermare, dunque, che l'esposizione all'alcol durante gli stadi critici di sviluppo adolescenziale può interferire con la plasticità cerebrale e avere un impatto negativo nei confronti dei processi di maturazione, causando gravi conseguenze cognitive e comportamentali a breve e a lungo termine. Tuttavia, gli effetti dell'alcol sul cervello non sono uniformi. Alcune aree o popolazioni di cellule cerebrali risultano più vulnerabili di altre agli effetti della sostanza. Ad esempio sono colpite le aree coinvolte nei processi di memoria e apprendimento, come l'ippocampo, e la PFC, volumi ippocampali minori negli adolescenti che iniziano a bere prima rispetto a coloro che iniziano più tardi. Alcuni meccanismi coinvolti nella genesi delle alterazioni sono comuni per il cervello adulto, e in fase di sviluppo, altri invece dipendono dallo stadio di maturazione. In generale, si può affermare che l'alcol è in grado di danneggiare specifiche aree cerebrali tramite meccanismi che comprendono emotossicità, formazione di radicali liberi e danno neuroinfiammatorio risultante dall'attivazione del sistema immunitario. Questi meccanismi potrebbero sottolineare l'ampia varietà di effetti indotti dal consumo di etanolo, inoltre, i cambiamenti neuroadattativi che affliggono i sistemi di neurotrasmissione risultano più sensibili agli effetti acuti dell'alcol piuttosto che a un consumo a lungo termine. Il mancato adattamento nel sistema mesolimbico dopaminergico indotto dall'alcol, ma anche le variazioni di plasticità anomale nelle aree cerebrali coinvolte nel meccanismo della gratificazione, nonché i fattori genetici ed epigenetici può contribuire al rinforzo indotto dall'alcol, e quindi, alla dipendenza. Influenze genetiche ed epigenetiche nonostante l'identificazione di diversi geni in grado di influenzare il rischio di sviluppare una dipendenza da uso di alcol, le basi genetiche dell'alcolismo restano ampiamente sconosciute. In particolare, il meccanismo d'azione o la comprensione della fisiologia di alcuni geni, così come le interazioni gene-ambiente, non si conoscono a sufficienza. Evidenze sperimentali hanno dimostrato modificazioni epigenetiche nella dipendenza da alcol. Questi studi hanno scoperto nuovi marker conseguenza di modificazioni della cromatina nel cervello di soggetti alcolisti. La sindrome feto-alcolica La sindrome alcolico-fetale, Fetal Alcohol Syndrome, FAS, è la più grave delle patologie del feto indotte dal consumo di alcol durante la gravidanza. A parità di statura, il corpo delle donne contiene una minore percentuale di acqua rispetto agli uomini, per cui, dopo aver bevuto un uguale quantitativo di una bevanda alcolica, la concentrazione di alcol nel sangue delle donne è maggiore rispetto a quella degli uomini. I tempi di eliminazione dell'alcol, già lunghi nella donna, sono per il feto ancora più dilatati. Se una donna incinta consuma bevande alcoliche, l'alcol, e soprattutto, l'acetaldeide, prodotto della metabolizzazione dell'alcol, giungono direttamente nel sangue del nascituro attraverso la placenta. Il feto, non essendo in grado di metabolizzare l'alcol come un adulto, viene di conseguenza esposto più a lungo ai suoi effetti nocivi. Le donne fertili, sessualmente attive, che consumano più di sette bevande alcoliche a settimana, e non usano contraccettivi efficaci, rischiano una gravidanza esposta all'alcol e di dare alla luce un bambino con deficit intellettivi, cognitivi e psicosociali. La probabilità di danneggiare il feto aumenta proporzionalmente al consumo di alcol da parte della madre, ad alto rischio sono i bambini la cui madre ha consumato almeno 80 grammi di alcol puro al giorno. Tuttavia anche l'assunzione abbondante, ma sporadica, di alcol rappresenta un pericolo per il feto, poiché tale consumo può influire sul suo sviluppo in ogni momento della gravidanza. Il rischio di partorire un bambino con sintomi della sindrome fetale alcolica FAS è stimato attorno al 30-40% delle gestanti con un forte consumo di alcol in gravidanza. Attualmente non è nota la ragione della diversa suscettibilità dei bambini agli effetti dell'alcol, ma è ragionevole pensare che la diversa risposta del feto sia dovuta alla combinazione di abuso di alcol, fattori genetici, deficit nutrizionali, fumo e barra, o abuso di droghe. I fattori che sembrano concorrere maggiormente alla formazione dei danni pre- e postnatali specifici sono la quantità di alcol consumato durante la gravidanza, la tipologia del consumo di alcol, cronico o occasionale, l'intensità dell'esposizione, l'interazione con altre sostanze, tabacco, droghe, medicinali, ma anche una predisposizione genetica e più in generale le condizioni di vita della madre. I bambini affetti da FAS manifestano peculiarità fisiche specifiche, soprattutto della testa e del volto. Segni caratteristici nel viso sono pieghe agli angoli degli occhi, fessure oculari strette, strabismo, naso corto e piatto, labbro superiore sottile e vermiglio, sulco nasolabiale allungato e piatto, fronte lunga e stretta, ipoplasia mascellare e mandibolare. Le anomalie oculari che si osservano nei bambini affetti da FAS indicano che gli occhi sono particolarmente sensibili all'alcol durante la fase dello sviluppo. Ai segni visibili si associano ipoplasia del nervo ottico, aumentata tortosità dei vasellini retinici e capacità visive ridotte. Anche il sistema scheletrico subisce le conseguenze dell'esposizione all'alcol. La FAS solitamente viene diagnosticata tardi nell'infanzia, sebbene la diagnosi precoce risulti fondamentale. La FAS è un'affezione invalidante permanente che debilita l'individuo sia a livello mentale che fisico, tuttavia è una sindrome prevenibile al 100% se si evita di assumere alcolici in gravidanza. Conclusioni Il cibo può essere consumato molto velocemente, ma questa modalità di assunzione, insieme alla condizione di distrazione dell'attenzione durante l'atto del mangiare, indebolisce la capacità dell'organismo di regolare a livelli fisiologici l'assunzione del cibo. Questi due elementi del comportamento alimentare operano attraverso la perdita, o la riduzione della sincronia tra la condizione di ripienezza, e i messaggeri che devono comunicare al cervello tale condizione per sospendere l'assunzione di cibo. La conseguenza è l'iperalimentazione. Sappiamo che non tutte le persone sono influenzate allo stesso modo dall'ambiente. Alcuni soggetti con un profilo genetico particolare riescono infatti senza fatica a tenere il bilancio energetico in equilibrio anche all'interno di un ambiente che spingerebbe verso il sovrappeso e l'obesità. Durante gli ultimi decenni, la trasformazione delle fonti di approvvigionamento alimentare a prodotto dei cibi che sono tanto facili da trovare, quanto veloci e convenienti da mangiare. Ormai ci alimentiamo non solo a colazione, pranzo e a cena, ma anche mentre guardiamo la televisione o un film al cinema, quando siamo seduti in macchina o mentre passeggiamo per strada. Alcune pubblicità mandate in onda su una televisione olandese promuovevano addirittura cibi da consumare sotto la doccia. L'abbondanza di stimoli a mangiare nella nostra società ci spinge ad assumere cibo anche in assenza di fame o mentre siamo distratti, e quindi quando i nostri segnali di sazietà vengono percepiti in ritardo. La maggior parte degli effetti di un eccessivo introito calorico provengono da cibi a elevato tenore energetico, bevande zuccherine, cibi raffinati a basso contenuto di fibre, ma anche da un'alimentazione che non conosce orari, luoghi prestabiliti, sala da pranzo, mensa di lavoro, refettorio scolastico, cucina, e moderazione nelle quantità. Porzioni sovrabbondanti, particolare appetibilità del cibo e velocità d'assunzione sono altri tre fattori che hanno come punto di arrivo l'obesità. Una grande sfida per l'industria alimentare nell'interesse della società sarebbe quella di progettare alimenti piacevoli, ma capaci di produrre una sensazione di sazietà abbastanza precoce per prevenire la sovralimentazione o per dare un senso di sazietà così lungo e forte da ritardare il pasto o lo spuntino successivo. Se i drogati di cibo esistono dipendenze chimiche legate all'uso di oppiacei, morfina ed eroina, psicostimolanti, cocaina e anfetamine, cannabinoidi, hashish e marijuana, nicotina o alcol. Esistono poi dipendenze non chimiche come quelle legate al gioco d'azzardo patologico, all'esercizio fisico, alla navigazione su internet, allo shopping, al sesso o al lavoro compulsivo. Esiste infine una forma di dipendenza legata al cibo che, forse più di ogni altra, riguarda in modo più o meno diretto molti di noi. Nel corso di questo capitolo cercheremo di capire questo e altri argomenti correlati. Dal punto di vista comportamentale come da quello neurobiologico, i dati scientifici di nostro possesso supportano la tesi che il cibo può indurre nell'uomo una condizione simile alle altre dipendenze. Le caratteristiche che connotano alcuni tipi di comportamento alimentare, infatti, ricalcano quelle tipiche di chi abusa di altre sostanze. In questi casi, la condotta del paziente è scandita da una sorta di rituale sempre uguale a se stesso. Tutto scaturisce dall'idea di una compulsione, ovvero dalla necessità di compiere un determinato atto, e allo stesso tempo, dalla consapevolezza di essere incapaci di resistere a quest'impulso, compulsività. In seguito, compare una tensione emotiva crescente, tipica del momento che precede l'inizio dell'atto compulsivo craving, il passo seguente è lo svolgimento di tale atto, con la tensione che si allenta progressivamente mentre viene raggiunto l'appagamento. La conclusione del rituale è caratterizzata dalla consapevolezza di aver perso, ancora una volta, il controllo. La ripetizione ciclica di questo comportamento, nonostante le evidenti conseguenze negative, rappresenta l'elemento che collega la storia della vita del paziente alla sua dipendenza. Numerosi studi di neurochimica hanno messo in risalto le similitudini che intercorrono tra dipendenza da cibo e dipendenza da droghe. L'uso di cocaina determina il rilascio di dopamina nei nuclei striati nel cervello. È stato dimostrato che lo stesso fenomeno accade anche dopo aver ingerito del cibo. I soggetti che consumano droghe presentano una ridotta sensibilità dei sistemi dopaminergici, la stessa che è stata riscontrata anche negli individui obesi. La misurazione della densità dei recettori per la dopamina nelle zone del cervello che utilizzano questo neurotrasmettitore come messaggero ha reso evidente che c'è una proporzione inversa tra numero dei recettori della dopamina e valore dell'indice di massa corporea. Un elevato indice di massa corporeo, come si riscontra negli obesi, corrisponde a una bassa densità di recettori per la dopamina. Questa sostanza è, assieme agli opioidi endogeni, il principale neurotrasmettitore di un particolare circuito nervoso del cervello denominato circuito di reward, o circuito di ricompensa, il cui compito è raccogliere stimolazioni piacevoli, come quelle derivanti dall'assunzione di alcol o dolci, e condurle a livello di coscienza. La dopamina gioca, al pari degli opioidi interni, un importante ruolo nel sistema che regola la percezione del piacere, lo stesso che viene coinvolto durante l'assunzione delle sostanze d'abuso. Il sistema si attiva tanto di più quanto maggiore è la dopamina mobilizzata. Il livello di attivazione del sistema dopaminergico determinato dal cibo è sicuramente molto meno elevato rispetto a quello messo in atto dalle droghe. Tra i cibi che danno una stimolazione dopaminergica particolarmente forte troviamo al primo posto gli zuccheri. L'importanza del loro ruolo nel processo evolutivo dell'uomo, come già accennato, è legato all'alto contenuto calorico e nutrizionale di queste sostanze, che le ha rese fondamentali per la nostra sopravvivenza. Con l'attuale abbondanza di disponibilità alimentare, nei paesi occidentali lo zucchero ha perso la sua originaria e sostanziale valenza di alimento necessario alla sopravvivenza, per conservare esclusivamente il suo valore formale di cibo piacevole e appetitoso. Oggi il mercato alimentare è caratterizzato da un'enorme offerta di cibi zuccherini destinati a invadere le nostre tavole. Una serie di patologie anche gravi per la salute dell'uomo possono trarre la loro origine proprio dal consumo di questi alimenti. Dipendenza e dipendenze La dipendenza da droghe è un disturbo cronico, ricorrente, che si articola in tre fasi distinte, una prima fase caratterizzata da intossicazione acuta, una seconda fase di astinenza accompagnata da stati emotivi negativi, e una terza fase di anticipazione e preoccupazione, che prepara alla successiva assunzione della sostanza. Il neuroscienziato al quale si deve la pioneristica ipotesi che il consumo di zucchero, e probabilmente di altri cibi molto appetibili, risponda alle stesse tre fasi che caratterizzano la dipendenza da droghe è stato un medico, il professore di psichiatria della Princeton University Barclay O'Ebel. Il suo lavoro è stato mirato a diffondere una maggiore consapevolezza riguardo alcuni comportamenti alimentari difficilmente comprensibili e a dare una spiegazione scientifica, anche se impopolare e controversa, del fatto che si potesse diventare dipendenti dagli alimenti di cui ci nutriamo. Tra l'altro, proprio per spiegare e divulgare i concetti base della dipendenza da cibo negli Stati Uniti, è nata una fondazione, la Food Addiction Institute and the Refined Food Addiction Research Foundation, nota anche come FAI. Sebbene frequentemente l'obesità e l'alimentazione con caratteristiche di dipendenza si sovrappongano, la dipendenza da cibo è incapace di spiegare tutti i casi di obesità, e le situazioni di quegli individui normopeso che frequentemente ricadono in situazioni di simil dipendenza alimentare. Benché non esista un accordo tra gli studiosi sui criteri per diagnosticare la dipendenza da cibo, è stato messo a punto un test specifico per la sua valutazione, si tratta della Yale Food Addiction Scale, IFAS, che troverete in appendice al libro. La IFAS, che è stata introdotta come scala per la valutazione dei comportamenti alimentari di dipendenza, ricalca i criteri con cui viene misurata la dipendenza da sostanze, misurando il grado di dipendenza alimentare. Nel dettaglio, esiste un forte sospetto di dipendenza se un individuo mangia eccessive quantità di un cibo nonostante numerosi tentativi di limitarne il consumo, se il comportamento alimentare in questione determina un'interferenza con le attività sociali e professionali e se, quando ci si astiene da quel determinato alimento, compaiono sintomi di astinenza. Le applicazioni preliminari di questi criteri suggeriscono come l'assunzione compulsiva e incontrollabile di quantità di cibo più elevate rispetto al fabbisogno giornaliero sia fondamentale per dimostrare che i criteri diagnostici utilizzati per la dipendenza da sostanze sono validi anche per la dipendenza da cibo. Un altro elemento che accomuna la dipendenza da sostanze con i disturbi della condotta alimentare si manifesta, nel soggetto affetto, con una preoccupazione incessante riguardo alla sostanza oggetto di dipendenza. Anche i pazienti bulimici e quelli anoressici hanno il pensiero costante su quando, come e quanto mangeranno. Ciò accade nonostante le evidenti conseguenze sul metabolismo e sul peso, che comunque il soggetto, che si illude di essere perfettamente normale, puntualmente nega. Un ulteriore elemento, dimostrato sperimentalmente negli animali e clinicamente riscontrato nell'uomo, è una forma di astinenza che insorge, nel momento in cui l'assunzione del particolare alimento è ridotta o sospesa, come condizione di malessere e provoca la ricerca compulsiva del cibo agognato. Irresistibili tentazioni i cibi consumati durante una bufata sono sempre molto appetibili e ad alto tenore calorico, con un elevato tasso di carboidrati come pane, pasta e dolci. Inizialmente questi pasti ricchi di carboidrati migliorano la condizione psichica perché riducono la rabbia, la tensione e danno un senso di calma che dura anche per una o due ore dopo il pasto. Consumare ripetutamente tali cibi produce comunque un adattamento nei circuiti di reward, che a loro volta producono risposte ansiose o sintomi di depressione quando tali alimenti non sono più disponibili e non vengono, quindi, più consumati. Dopo aver tenuto per un mese un regime alimentare a elevato tenore di grassi 28, 41%, un gruppo composto di uomini e donne è passato a una dieta a basso tenore di grassi, 25%, e alto contenuto di carboidrati. Per tutto il mese successivo, i soggetti presi in esame hanno mostrato segni di rabbia e ostilità. L'incremento dell'irritazione era il risultato sia della riduzione dei grassi nella dieta sia dello sforzo di adattarsi al nuovo regime alimentare. Nello specifico, il consumo ripetuto e frequente di cibi altamente appetibili può abbassare la sensibilità del circuito di reward attraverso i meccanismi che comunemente si osservano nella dipendenza da sostanze. Negli individui obesi, come abbiamo già visto, esiste una ridotta disponibilità del recettore della dopamina rispetto ai non obesi, in maniera proporzionalmente inversa al valore del BMI, Body Mass Index. Recentemente dati sperimentali hanno dimostrato come, di per sé, l'aumento del peso o un comportamento correlato all'aumento del peso, come l'aumentato introito di cibi iperappetibili. Può progressivamente ridurre la sensibilità del sistema dopaminergico e rendere necessaria nel tempo una stimolazione progressivamente più forte per riuscire a raggiungere la medesima condizione di piacere. A riguardo, Bartley Oebel e i suoi collaboratori hanno ipotizzato che esistano sostanze che hanno maggiore capacità degli zuccheri di promuovere la dipendenza da cibo. 29 elementi propri della dipendenza, come segni somatici simili all'ansia, sono stati osservati in seguito alla sospensione di una soluzione zuccherina o di cibo zuccherato solido. Sono meno chiari i sintomi di astinenza che seguono la sospensione di una dieta prevalentemente formata da una miscela di grassi o da grassi e zuccheri. Esattamente come accade con la dieta a base di zuccheri, quando i ratti ricevono l'accesso a grasso puro come quello vegetale, o a una miscela di cibo con zuccheri e grassi, sviluppano un comportamento molto simile a quello assunto nelle abbuffate tipiche del binge eating disorder 30, o BAD. Disturbo della condotta alimentare che esamineremo più approfonditamente nella seconda parte del libro. I cibi appetibili possono determinare una sensazione di piacere e dare come esito un rinforzo positivo, il soggetto tende a ripetere l'esperienza perché ha sperimentato piacere, o un rinforzo negativo, il soggetto tende a ripetere l'esperienza perché è stato rimosso uno stimolo sfavorevole. L'aumento dell'ansia e dello stress che si verificano dopo un periodo di privazione da un certo alimento non è esclusivamente una conseguenza della dipendenza da un cibo gratificante, ma anche un fattore che motiva e promuove la nuova assunzione dell'alimento. Esistono poi dei cibi che hanno in sé un vero e proprio potere tranquillizzate, come nel caso del latte. Nel latte materno è infatti contenuta la casomorfina, una proteina che stimola a livello intestinale il sistema opioide. Il latte contiene inoltre il triptofano, un precursore della sintesi della serotonina, che a sua volta ha un effetto tranquillizzante. Bere quindi un bicchiere di latte prima di andare a letto può, stimolando sia il sistema opioide che quello serotoninergico, ridurre la latenza del sonno e facilitare la fase di addormentamento. Circuiti di reward e sistema dopaminergico il piacere, inteso come il complesso delle sensazioni conseguenti all'appagamento dei bisogni, è stato, ed è tuttora un elemento indispensabile per la vita e l'evoluzione dell'uomo. Tutti gli esseri viventi perseguono due finalità essenziali dal punto di vista biologico, la propria sopravvivenza, e la conservazione della specie. Per raggiungere queste finalità devono essere soddisfatti alcuni istinti come la fame, la sete, il sesso, e la cura della prole, che è garantita dall'esistenza di meccanismi celebrali di gratificazione. Il piacere è quindi primariamente soddisfatto dal ritrovamento del cibo, dell'acqua e del partner per l'accoppiamento. Queste istanze rappresentano gli stimoli gratificanti primari, così chiamati perché posseggono un'intrinseca proprietà di determinare un rinforzo positivo. La gratificazione e la motivazione sono controllate dal sistema limbico, un insieme di aree celebrali implicate nella genesi delle emozioni e nei processi di apprendimento e di memoria. I sistemi neurotrasmettitoriali che entrano in gioco nei meccanismi della gratificazione sono quello dopaminergico e quello opioide. Il primo controlla la spinta motivazionale per la ricerca dello stimolo gratificante, il secondo media i processi di gratificazione dopo che la situazione gratificante è stata consumata. Gli stimoli primari come il cibo, l'acqua e il sesso, oltre a possedere una proprietà gratificante, ne hanno una cognitiva responsabile di comportamenti finalizzati alla ricerca, al riconoscimento e al consumo dello stimolo primario. La capacità degli stimoli primari di esercitare effetti è sempre dipendente dalla condizione del soggetto e dalla sua passata esperienza. In seguito alla vista di uno stimolo come il cibo, la trasmissione dopaminergica varia al mutare della sua appetibilità e novità. In condizioni di normalità il sistema dopaminergico si attiva solo per cibi particolarmente gustosi o nuovi. In condizione di digiuno però lo stimolo gratificante e l'attivazione del sistema dopaminergico si può avere anche per cibi né gustosi né nuovi. Una caratteristica della trasmissione dopaminergica nel sistema limbico è la rapida tendenza all'abitudine. L'attivazione viene ripristinata solo dopo un periodo di non esposizione allo stimolo o di deprivazione dallo stesso. Questo spiega perché tutti i nuovi stimoli sono percepiti dall'uomo come maggiormente appetibili. Le sostanze d'abuso sono surrogati potentissimi degli stimoli primari e sono in grado di indurre spiccate proprietà gratificanti. In altri termini, l'esperienza con le sostanze può diventare per l'uomo un fine primario dell'esistenza al pari, se non superiore, di quelli indotti da stimoli naturali come il cibo, l'acqua e il sesso. L'uomo è vulnerabile agli stimoli gratificanti in modo più o meno profondo in relazione alla struttura temperamentale e a innumerevoli altri fattori di ordine genetico e ambientale. La differente vulnerabilità determina a sua volta una gradazione di comportamenti che consentono al soggetto di mantenere il proprio controllo in quella situazione o di sperimentare un episodio di discontrollo verso quella specifica condotta. Quando qualcosa ci piace, i circuiti cerebrali di reward si attivano e danno all'organismo la percezione della sensazione di piacere. Purtroppo, a fronte della sensazione di appagamento, da quel momento non siamo più del tutto liberi di scegliere autonomamente, e, se non prendiamo coscienza della situazione che stiamo vivendo, corriamo il rischio di rimanere intrappolati.I centri del piacere e i meccanismi che sono coinvolti nelle nostre attività piacevoli si muovono all'interno dei circuiti cerebrali di reward, anche detti centri del piacere. Si tratta di aree cerebrali che si trovano in alcune strutture del cervello come l'ipotalamo, il sistema limbico, il nucleo accumbens. Dal punto di vista della storia dello sviluppo umano, questo circuito ha la funzione di attivarsi in tutte quelle condizioni che consentono all'uomo l'accesso alle risorse essenziali della vita, garantendogli così la sopravvivenza. Per esempio, l'uomo primitivo aveva giornalmente la necessità di procurarsi cibo e acqua per sopravvivere. Tutte le sue energie erano dedicate a questo compito, e nel momento in cui reperiva ciò di cui aveva bisogno si attivavano dei meccanismi che evocavano una condizione di piacere. L'uomo cercava quindi continuamente tali sostanze per ricreare la stessa sensazione di benessere. Ai fini della continuazione della specie il meccanismo si riproponeva in modo identico anche nei confronti della ricerca del partner per l'accoppiamento. Dopamina e opioidi endogeni I neurotrasmettitori principali dei circuiti di reward sono la dopamina e gli opioidi endogeni. Gli opioidi donano al cibo la sua connotazione di gratificazione e piacevolezza, e ci spingono a mangiarne ancora. La dopamina invece è il neurotrasmettitore utilizzato per il comportamento che ci stimola alla ricerca del cibo, e quindi del piacere. In altri termini, la dopamina ci incoraggia a mettere in atto tutti quei comportamenti che sono necessari per ricercare e raggiungere il piacere del cibo che preferiamo. La dopamina è anche il mediatore che governa il desiderio e attira l'attenzione del cervello verso eventi particolarmente significativi, in particolare verso ciò che può determinare benessere e gratificazione. È quello che gli scienziati chiamano pregiudizio attenzionale, definito come la sproporzionata quantità di attenzione che riserviamo a uno stimolo altamente gratificante a spese di altri, 31 che è la condizione che ci consente di focalizzare la nostra attenzione sulla cosa più importante dell'ambiente che ci circonda, trascurando tutto il resto. Maggiore è la gratificazione che il cibo ci potrà dare, maggiore sarà l'impegno con cui cercheremo di ottenerlo. Per esempio, quando il laboratorio arrivava l'orario del cibo, le cavi affamate diventavano iperattive e assumevano comportamenti di ricerca, 32 somministrando loro un farmaco antagonista della dopamina, questo atteggiamento si affievoliva. Altri esperimenti hanno messo bene in evidenza come gli animali d'esperimento siano in grado di avere comportamenti di ricerca e di compiere un duro lavoro pur di superare gli ostacoli che li dividevano dal cibo. La dopamina è fortemente coinvolta in quest'attività di ricerca, tant'è che gli animali cui vengono somministrati i farmaci antidopamina sono più svogliati, preferiscono i percorsi più facili e si accontentano di minori quantità di cibo. La dopamina aumenta quindi le capacità di effettuare gli sforzi e guida l'animale nelle azioni che gli faranno ottenere le maggiori gratificazioni possibili. La dopamina, però, svolge un ruolo non solo nella ricerca del cibo, ma anche nella ricerca dell'amore, promuovendo e sostenendo il legame di coppia in molte specie animali. È stato dimostrato che bloccando la dopamina si può interferire con i rituali di scelta del partner per l'accoppiamento. Anche gli esseri umani, quando sono presi da una travolgente storia d'amore, subiscono infatti gli effetti della stimolazione da parte della dopamina. Uno studio con la risonanza magnetica funzionale 33 ha scannerizzato il cervello dei partecipanti mentre venivano loro mostrate le fotografie di persone dello stesso sesso e della stessa età del partner insieme a quella del compagno. La visione della fotografia del partner rendeva più attive regioni del cervello caratterizzate da un'elevata concentrazione di neuroni dopaminergici, mentre le immagini di altri soggetti non davano alcuna attivazione. In definitiva, il sistema dopaminergico, oltre a determinare i comportamenti di ricerca per le situazioni gratificanti, regola una serie di atteggiamenti necessari al raggiungimento del piacere, recepiti dai circuiti celebrali di reward. Gli stimolanti solo alcune sostanze sono in grado di stimolare i centri del piacere, e come è facile intuire, sono proprio quelle di cui l'uomo tende ad abusare. Se difficilmente riscontreremo l'abuso di un alimento o di un farmaco come possono essere cavolfiori o antibiotici, diverso è il discorso per le torte o per le anfetamine. Quando il sistema dopaminergico in determinate condizioni riceve delle stimolazioni profonde, nel cervello scatta un allarme che dà a questi stimoli un valore di primo piano. La dopamina svolge quindi l'azione di un allarme che richiama l'attenzione del cervello su una sensazione di gratificazione, ne sottolinea l'importanza, e pone le basi per una sua successiva ripetizione. Cibo e dipendenza Il cibo è per definizione tutto ciò che noi ingeriamo con lo scopo di sostenere la crescita, l'energia, e la vita del nostro organismo. Parlare di dipendenza da cibo ci mette in una condizione di delicata gestione dei termini che dovremmo usare. In qualche modo siamo tutti dipendenti dal cibo. Banalmente, senza di esso smetteremmo di vivere. Esistono però dei modi di assunzione che deviano dal compito principale degli alimenti, ossia dalla nutrizione, e si modificano assumendo delle particolari modalità che divengono patologiche, e a loro volta sono in grado di generare ulteriori disturbi. La terminologia utilizzata in questo ambito non è né chiaramente definita né unanimemente condivisa. Assegnare un preciso significato ai vocaboli craving e addiction, che impiegheremo nel corso del capitolo, e che sono entrambi mutuati dal lessico delle dipendenze da sostanze d'abuso, è così abbastanza complesso, benché ambedue i termini abbiano in comune, oltre alle stesse basi neurobiologiche, anche altri elementi. Nel linguaggio delle dipendenze da sostanze, il termine craving è usato per descrivere un intenso desiderio per una varietà di sostanze, che posso andare dalle droghe al cibo, con perdita di controllo nel momento dell'assunzione, e con incapacità ad autoregolarsi. Addiction invece indica una vera e propria dipendenza con fenomeni di astinenza alla sospensione ed inarrestabile ricerca della sostanza desiderata. Il craving e l'addiction cercare una definizione condivisa nel mondo scientifico per il craving è più facile rispetto a quella di addiction. Il craving è uno stato soggettivo che gli individui possono riconoscere e riferire. Secondo il dizionario inglese Collins si tratta della bramosia o del desiderio intenso verso qualcosa. Quest'ultima definizione è la più vicina al significato che viene attribuito alla parola nel momento in cui si utilizza il termine di food craving. Una terza definizione di craving indica invece un grande o impellente bisogno. Negli ultimi tempi il concetto di addiction è stato oggetto di una profonda revisione. Comunemente, sebbene le definizioni correnti di addiction da sostanze spesso differiscano tra loro, con questo termine si indica la relazione dell'individuo con qualcosa alcol e droga in primo luogo di cui non si può fare a meno. Tutte le definizioni enfatizzano comunque la compulsione o la perdita di controllo sulla sostanza, e indicano come fattori importanti per operare una distinzione il disagio legato all'astinenza e il danno causato alla salute e al comportamento sociale ed economico. L'addiction è così ristretta a quella condizione di dipendenza patologica dove è stato perso il controllo sull'uso di una sostanza o su un comportamento. La dipendenza che si riferisce alla necessità di eseguire il comportamento o assumere la sostanza per riuscire a vivere normalmente viene associata al fenomeno della tolleranza, che indica la necessità di incrementare le dosi di sostanze o la frequenza dei comportamenti per tenere stabile l'effetto e i problemi relativi al fenomeno dell'astinenza, che compare alla sospensione delle sostanze e delle condotte. Food craving c'è chi non riesce a tranquillizzarsi fino a quando non addenta una barretta al cioccolato, non apre un pacchetto di biscotti o di patatine. In questo caso si parla di food craving che, secondo la definizione più comunemente usata, è proprio l'intenso desiderio di mangiare uno specifico cibo. Le caratteristiche distintive di questo fenomeno sono due. In primis, la forza con cui desideriamo qualcosa, una forza che ci impedisce di controllarci e ci fa perdere la testa. Un desiderio estremamente più forte rispetto a quello generato dalle ordinarie scelte di cibo che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. L'altro aspetto caratteristico del craving riguarda la sua specificità, e questo serve a distinguere il craving per un alimento dalla normale fame. Presumibilmente, qualsiasi cibo può saziare il soggetto, ma c'è solo uno specifico alimento in grado di tranquillizzarlo, quello desiderato. È come una serratura. Potenzialmente qualsiasi chiave potrebbe aprire la porta, ma soltanto una può effettivamente a riuscirci. Il craving per il cibo è interessante per la sua elevata prevalenza a 34 e per l'impatto nutrizionale. Alcuni studi effettuati negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna a 35 hanno mostrato che il food craving è estremamente comune. Circa il 100% delle giovani donne, e il 70% dei giovani uomini hanno riferito di aver avuto una o più esperienze di food craving nell'ultimo anno. Il fenomeno si è rivelato meno frequente negli adulti di età media di 65 anni. La frequenza del food craving sembra quindi ridursi con l'età, o, quantomeno, sembra che gli anziani siano in grado di resistere maggiormente alle tentazioni, o comunque appaiono in grado di controllarsi con più facilità, sostituendo il cibo desiderato con altro. Si ritiene che il food craving sia associato allo snacking behavior, altro termine inglese con cui si indica la necessità di fare continuamente spuntini. È un comportamento che compare frequentemente in soggetti che sono a dieta, e presenta numerosi rischi per la salute, nel momento in cui la quantità di cibo consumato raggiunge livelli elevati, possono manifestarsi dei disturbi della condotta alimentare come il binge eating disorder bad. Come funziona il food craving sia il craving per il cibo che quello per la droga, hanno in comune alcuni sistemi di neurotrasmettitori. 36 esistono delle evidenze sperimentali secondo cui, alla presenza dell'ingestione del cibo desiderato, aumenta la quantità di opioidi endogeni secreti. Tale incremento determina, come hanno dimostrato dei recenti studi 37 basati sull'ingestione di dolci, un'attività analgesica. Somministrando a un gruppo di bambini del cioccolato, delle patatine e dei dolcetti si aveva un effetto calmante che non si riscontrava quando agli stessi bambini si offrivano alimenti da loro considerati scarsamente appetibili. È stato suggerito che il food craving subisca un rinforzo dal rilascio delle endorfine. 38 effettivamente i neuroni cerebrali deputati a questo compito ricevono le sensazioni gratificanti determinate dalla stimolazione oro-sensoriale mediante la via dopaminergica, ma anche da quella del sistema degli opioidi endogeni. Il risultato della stimolazione di questi circuiti è di ripetere l'esperienza piacevole appena esperita, e continuare a mangiare. Si tratta di un vero e proprio circolo vizioso in cui l'alimento particolarmente appetitoso trasmette al cervello il messaggio di mangiarne ancora, ancora e ancora. La comunicazione che viene inviata alla coscienza è quella di un'esperienza di gratificazione e di benessere, nonché di riduzione della sensazione di tensione. Ciò che accade dopo l'assunzione di una sostanza stupefacente, anche se in un ordine di grandezza nettamente più elevato, non è molto diverso. Il craving specifico è un aspetto molto controverso della psicologia dell'alimentazione mettere in relazione serotonina, umore e craving per i carboidrati. Questi elementi, nonostante la convinzione sia grandemente diffusa, hanno in realtà un legame fra loro abbastanza debole, contraddittorio, e non unanimemente condiviso dagli studiosi. Dopo aver mangiato uno snack, i soggetti con il craving per i carboidrati sono significativamente meno depressi, mentre i soggetti non affetti da craving sperimentano fatica e sonnolenza. È per questo che chi ha il craving per i carboidrati quando mangia uno snack ristabilisce la sua energia e vitalità, proprio come fanno alcune persone quando chiedono un'altra tazza di caffè perché sentono che la loro energia, e il loro livello di attenzione stanno calanodo. Questo si ricollega alla teoria secondo cui un pasto a base di proteine e carboidrati può influenzare la trasmissione serotoninergica nel cervello. Il primo effetto che compare è l'innalzamento della vigilanza. Un secondo elemento è che gli snack ricchi di carboidrati dovrebbero migliorare l'umore depresso, specialmente in pazienti con obesità e craving per i carboidrati, con la sindrome premestruale o con il disturbo affettivo stagionale. Tutti pazienti caratterizzati da umore depresso e aumentata ingestione di carboidrati. Un'altra caratteristica essenziale dei cibi frequentemente oggetto di craving è il loro elevato contenuto di grassi. Il desiderio per questi specifici cibi è stato collegato al sistema degli oppioidi endogeni, e l'iperfagia per questo tipo di alimenti potrebbe condividere un meccanismo comune con la dipendenza da oppiacei. Quando un soggetto affetto da craving consuma l'alimento desiderato, si sente calamo, appagato e disteso. La differenza tra chi ama i cibi ad alto contenuto di zuccheri è particolarmente appetitosi e i soggetti affetti da craving per i carboidrati è che i primi si appagano con una modesta quantità di cibo, mentre gli altri hanno la necessità, per attenuare il craving, di un consumo smodato di alimenti. Ad esempio, una persona che ama i bignè al cioccolato si soddisferà con un unico dolcetto. Chi, invece, è affetto da craving comprerà un intero vassoio di bignè, e non si fermerà fino a quando non li avrà terminati. La differenza fra i due soggetti non sarà probabilmente solo nella quantità di cibo consumato, ma anche nel condizionamento inibitorio che il cervello dei soggetti con craving determina sulla sensazione di sazietà. Dopo l'assunzione, i soggetti normali si sentono talvolta appesantiti e sono lenti anche dopo aver assunto piccole quantità. I soggetti con craving appaiono tonici e rinvigoriti anche dopo aver ingurgitato quantità ragguardevoli. In definitiva, cibi e sostanze d'abuso agiscono in maniera similare sia sui sistemi celebrali di reward che sulla condizione soggettiva di colui che è coinvolto nel craving. La differenza tra cibo e sostanze d'abuso è legata alla diversità della potenza dello stimolo che riescono ad evocare. L'attività delle sostanze d'abuso è talmente violenta e sovramassimale che dà usualmente effetti più rapidi, più duraturi e devastanti nel tempo. In alcuni soggetti, però, questo tipo di vulnerabilità si può verificare anche per il cibo con modificazioni del comportamento che possono essere abbastanza simili a quelle che si osservano nella dipendenza da sostanze. Come abbiamo esaminato in precedenza nel corso del capitolo sul rapporto fra cibo e stress, il consumo di dolci o di altri cibi golosi è motivato in buona parte anche dalla loro capacità di dare sollievo allo stress. Questa idea è supportata dai dati della ricerca, che indicano come gli opioidi siano rilasciati come risposta all'ingestione di dolci e altri cibi appetibili. Esistono anche conferme sperimentali del fatto che durante il pasto la risposta edonica sia mediata da opioidei endogeni. La consapevolezza a livello di coscienza del piacere e dell'appagamento dopo aver mangiato un cibo prediletto è pertanto mediata dal sistema degli opioidi endogeni. Donne e craving Il craving per i cibi è una condizione riscontrabile anche in situazioni fisiologiche. Durante il ciclo mestruale la donna, per esempio, è portata a incrementare il consumo di carboidrati e in particolare quello di dolciumi. Il desiderio inizia a salire circa una settimana prima dell'inizio delle mestruazioni, raggiunge il suo punto più alto nei due a tre giorni precedenti il ciclo e scompare subito dopo. In questo periodo, il cioccolato sembra essere uno dei cibi più desiderati. Un'altra condizione in cui si manifesta il craving per frutta, gelati, latticini è la gravidanza. Si è cercato di dare una spiegazione a questi fenomeni di craving pensando che si trattasse di una sorta di terapia sostitutiva che l'organismo richiedeva per bilanciare delle carenze specifiche. Inizialmente si riteneva che il cioccolato fosse assunto per la sua quantità di magnesio, e i latticini per la loro quantità di calcio. Sostituendo i cibi preferiti con alcuni contenenti più magnesio del cioccolato e più calcio dei latticini, questi però non erano oggetto di craving. Si è così dedotto che tali alimenti non fossero preferiti per tale motivo, e che l'ingestione del cibo preferito per generare un effetto positivo debba essere necessariamente associata a una condizione di gratificazione che a sua volta sia in grado di stimolare il sistema cerebrale di reward. Addiction Cinzia è una studentessa di 22 anni sovrappeso. Frequenta all'università il corso di giurisprudenza, ma ultimamente i suoi studi hanno avuto un forte rallentamento. Penso solo al cibo, confessa sconsolata, raccontandomi di essere ossessionata, senza conoscerne il motivo, da un tipo di frullini. Pur avendo storie diverse, Cinzia condivide molto di più di quello che si possa pensare con Sanadro, che invece si dice dipendente da una bibita energizzante al ginseng, con Marco, tossicodipendente da cocaina, o con Davide, alcolista, tutti e quattro sono schiavi di sostanze che sanno essere, in modo più o meno grave, pericolose per la salute e per la loro stessa vita. Eppure continuano a farne uso. Una delle prime spinte all'assunzione di particolari sostanze dannose e droga, alcol, ma anche determinati alimenti e bibite è infatti l'effetto euforizzante, uno stimolo molto potente nei confronti del quale il nostro cervello è particolarmente sensibile, che è la conseguenza dell'azione delle sostanze sui neurotrasmettitori, gli agenti chimici che servono per assicurare la comunicazione tra le varie aree del cervello. Il primo bersaglio delle droghe sono infatti proprio i neurotrasmettitori che, sotto l'azione dirompente delle sostanze, subiscono uno sconvolgimento della loro attività come messaggeri che aveva fino ad allora garantito comunicazioni ottimali con gli altri sistemi. La conseguenza è l'alterazione della comunicazione tra le diverse aree cerebrali. Le droghe determinano un cambiamento radicale del funzionamento di tutto il sistema nervoso, e quindi del comportamento, che si trasforma e si adatta cronicamente alle modificazioni che le sostanze hanno prodotto. Il risultato è che l'apprendimento, la memoria, la plasticità, e le capacità di recupero di tantissime funzioni del cervello subiscono continui e violenti insulti, cui seguiranno inesorabilmente dei danni che nel lungo periodo si riveleranno di natura irreparabile. Il nostro cervello è programmato per procurarsi stimolazioni che hanno primariamente un significato indispensabile per la nostra sopravvivenza. Le più forti, quelle che determinano impulsi gratificanti per il cervello, sono prodotte dal cibo, dall'acqua e dal sesso. Le sostanze d'abuso eccitano in maniera artificiale e potente gli stessi circuiti che sono fisiologicamente e naturalmente attivati quando compiamo le nostre funzioni vitali. Il risultato della stimolazione massiva ricevuta sarà un'esperienza piacevole e pervasiva che progressivamente tenderà a catturare tutte le energie disponibili del soggetto, a impegnarlo a ripetere in maniera ossessiva l'assunzione dell'elemento desiderato con la finalità di rivivere l'esperienza passata, con l'idea che solo in quella condizione esista a benessere e a pagamento. L'individuo, come racconta perfettamente Cinzia svelando il suo senso di disagio e di impotenza nei confronti dei biscotti, non penserà ad altro che a procurarsi le sostanze oggetto della sua dipendenza, a consumarle, a darsi da fare per reperire altro denaro per acquistarne di nuove e così via. Si tratta di un circolo vizioso cronico con altissima tendenza alla ricaduta, che pone il soggetto nella condizione di completa inconsapevolezza. La convinzione di poter uscire dalla situazione in qualsiasi momento è sempre molto forte e presente nel soggetto, sfortunatamente però si tratta solo di un'illusione. Food addiction Con l'inglese food addiction si descrive quello che in italiano intendiamo più generalmente come dipendenza da cibo. Sebbene questo argomento sia da anni in primo piano, e non smetta di interessare anche il dibattito scientifico, è ancora molto controverso. Verosimilmente alcuni alimenti, come quelli ricchi di grassi e zucchero, in certe condizioni sono in grado di promuovere comportamenti simili alla dipendenza da droga. Eppure essi, benché siano altamente appetibili, di per sé non sono causa di dipendenza. L'obiezione più frequente è che tutti per vivere abbiamo bisogno di cibo, e che l'etichetta di dipendenza non possa essere applicata a ciò che ci serve per restare in vita. La risposta degli studiosi è che non tutti i cibi danno dipendenza, e che particolarmente dannosi si rivelano gli alimenti sconsigliati, quelli per i quali è più facile perdere il controllo, e che spesso si dimostrano estremamente calorici. Si tratta di cibi molto appetibili che, pur non essendo di per sé causa di dipendenza, sono simbolo di modelli di alimentazione restrittiva. Per essere considerata dipendente da una determinata sostanza, una persona deve rispondere positivamente durante l'ultimo anno ad almeno 3 dei 7 criteri seguenti. 1. Tolleranza. Per ottenere lo stesso effetto bisogna aumentare il dosaggio della sostanza. 2. Astinenza. 3. Prendere una quantità di sostanza sempre più elevata, o per un periodo più lungo di quanto desiderato. 4. Sperimentare un desiderio persistente per la sostanza, o un'incapacità a ridurre, o a controllare il suo uso. 5. Trascorrere molto tempo ricercando o consumando la sostanza o cercando di ridurre i suoi effetti. 6. L'uso della sostanza interferisce in maniera importante con le altre attività. 7. L'uso della sostanza continua nonostante le conseguenze negative. È da sottolineare che una caratteristica chiave per la diagnosi di qualsiasi dipendenza è la presenza della perdita del controllo sull'assunzione della sostanza, per fare però diagnosi di dipendenza psicologica è sufficiente che siano soddisfatti i criteri 1 e 2 che prevedono la presenza della tolleranza e della dipendenza. In definitiva, nel tentativo di dare una precisa identificazione del fenomeno, la food addiction deve essere caratterizzata da tre elementi. 1. Dalla compulsione a consumare con regolarità l'alimento oggetto di addiction. La persona non riesce a iniziare la giornata se non dopo aver consumato una o più dosi dell'alimento delle sue attenzioni. 2. Dalla perdita del controllo. L'individuo giura che non ci saranno più episodi di discontrollo, e che andando al party mangerà soltanto una fetta di torta e riuscirà a contenersi. Invece, mangerà fino a quando non si sentirà male, e la mattina dopo giurerà ancora, mai più. La sera seguente ripeterà però lo stesso comportamento. Anche se l'individuo sarà in grado di fermarsi o di moderarsi per un certo periodo di tempo, alla fine ritornerà sempre a perdere il controllo. 3. Dall'uso continuativo della sostanza in questione nonostante le conseguenze negative. L'individuo continuerà a mangiarne nonostante siano in aumento i problemi che lo riguardano, che vanno da un diffuso disagio sociale, senso di inadeguatezza, vergogna per il proprio aspetto fisico, a un peggioramento delle condizioni di salute, prime tra tutte l'obesità e le malattie metaboliche. La sazietà gusto specifica e il ruolo degli opiodi al ristorante Cristina preferisce ordinare antipasti misti composti da tante piccole portate dal gusto diverso. Si comporta allo stesso modo con i primi, ordina un primo per sé e uno per il marito, e poi li divide. In questo modo è in grado di mangiare una quantità di cibo molto più elevata rispetto a quanto mangerebbe se ordinasse un solo antipasto, e un solo primo. Il marito di Cristina, Aldo, preferisce invece ordinare un solo piatto che mangia fino a quando non si sente sazio. In seguito, non ha bisogno di ordinare altro. Cristina e Aldo hanno una sazietà specifica per ogni determinato gusto, più precisamente indicata come sazietà gusto specifica, molto diversa. Cristina riceve dal cibo una maggiore gratificazione, e questo aumenta il tono dei sistemi opiodi che la predispongono a ripetere l'esperienza gratificante, ha così bisogno di più portate per assecondare tale richiesta di gratificazione ripetuta. Quando Aldo finisce di mangiare la sua portata, invece, i segnali di gratificazione che provengono dall'aver mangiato sono di un'intensità più bassa rispetto a quelli della moglie, e non lo invogliano a ordinare altro. Una cosa molto simile si è verificata in laboratorio, dove delle cavie 39 potevano mangiare croccantini al cioccolato per un'ora, per l'ora e mezza successiva venivano messi a loro disposizione croccantini sia al cioccolato che alla banana. In questo intervallo di tempo, le cavie preferivano mangiare croccantini alla banana. L'esperimento era poi ripetuto, ma dopo la prima ora di croccantini al cioccolato, alle cavie venivano iniettati degli opiodi. Come risultato, queste continuavano a mangiare croccantini al cioccolato, anche quando venivano loro presentati quelli alla banana. Il senso di sazietà gusto specifica non esisteva più, la stimolazione dovuta agli opiodi l'aveva eliminata. Ciò significa che il piacere dei croccantini al cioccolato elevava il tono di stimolazione degli opiodi e consentiva ai topolini di ripetere l'esperienza gratificante conosciuta con i croccantini al cioccolato senza avere la necessità di essere stimolati da un nuovo gusto. In un altro esperimento, alle cavie venivano iniettati farmaci che antagonizzano l'azione degli opiodi, naloxone e naltrexone. Il risultato era che le cavie mangiavano meno croccantini al cioccolato perché i segnali provenienti dal sistema opioide venivano bloccati e questo toglieva all'alimento il suo valore di gratificazione. La conclusione è che gli opioidi comunicano al centro del piacere ubicato nel nucleo accumbens che quella che stiamo vivendo è un'esperienza deliziosa che dobbiamo cercare, a tutti i costi, di ripetere. Inibire questo messaggio che viaggia dalla periferia verso i centri del piacere toglie la coloritura di piacevolezza e inibisce quindi la compulsione a ripeterla. Grazie.